Le emozioni che provi non possono essere emozioni dovute soltanto al contatto, al messaggino, al codicino, alla bambolina che mandi la sera e buongiorno, buonasera. Sono le emozioni che vivi al momento. Al momento le vivi e il bacio è una cosa fondamentale in un rapporto. Per cui se io non provo a baciare una donna, come faccio a sapere che questa donna può fare a caso meno? Sento il desiderio di baciarla e nasce questo. Non è che io parto con l'idea di baciare Barbara o parlo di baciare lei, però il bacio è fondamentale perché è il collante di un rapporto. Se il rapporto, se chi smette di baciarsi, il rapporto è finito. Ok, questo deve iniziare, però se non si parte non si saprà mai. Allora, stasera usciamo insieme e abbiamo in programma che devi passare la giornata domani. Se dovessimo baciarci, tu andiamo avanti con questa tarantella fino a maggio. Baci lei, baci me, perché tu sei fatto così? A te piace? Non mi piace trovare queste sensazioni. Dobbiamo sempre vedere se con me sta bene però Barbara, giusto? Come a te sta bene il discorso generale. Parlo per il carattere che ha lui. Ma sì, perché lui è passionale. Non è proprio così. È molto passionale. Però dì anche la differenza che c'è tra me. Che cosa hai trovato tra me e lei? Io sono molto passionale, però tra voi ci sono delle differenze fisiche, ci sono delle cose che vi accomunano, però ci sono anche delle differenze fisiche, di carattere. E io devo scoprirle queste cose qua, però devo scoprire anche il sapore che mi date, perché se io bacio lei e mi trovo male, non può andare avanti la storia. Grazie. 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 Grazie.